Escursione ai cadini di Misurina che richiede passo sicuro e totale assenza di vertigini. Dal lago di Misurina saliamo al rifugio Col de Varda per un bel bosco misto, ombroso. In circa un'ora arriviamo al Col de Varda, la cui vista sul cristallo giustifica il nome. Saliamo verso Forcella Misurina con vista sul Sorapis, la croda del lago e la parmolada. La toffana di Rozzes, il cristallo che domina dall'alto il lago di Misurina, la croda rossa da un pezzo. Con la neve c'è l'Austria, ma in alto la nostra meta, Forcella Misurina. Da qui la vista delle tre cime ci sorprende, ma dopo una breve sosta è già ora di scendere. Arrivati nell'Ampio Catino, da cui il nome del gruppo, lasciamo a destra la Forcella della Neve e attacchiamo il sentiero che a sinistra ci porta alla Forcella del Diavolo. E se volete sapere perché si chiama Forcella del Diavolo, ci dovete venire durante un temporale. Attraversiamo il mitico ponte di roccia che resiste da almeno 50 anni e in pochi minuti arriviamo in cima alla Forcella. Fame e fatica ci permettono di rimanere almeno mezz'ora a godereci il panorama, per poi scendere di nuovo verso il rifugio Fondasavio. Abbiamo impiegato circa due ore dal Col de Varda e possiamo scendere per facile sentiero verso Misurina. Ma abbiamo ancora benzina da consumare e decidiamo di proseguire verso Forcella-Rimbianco, anche perché vogliamo continuare a goderci la vista delle tre cime di Lavaredo. Per facile sentiero scendiamo a Forcella-Rimbianco, con superba vista sulle Dolomiti di Sesto. Velocemente scendiamo al lago d'Antorno e poi al lago di Misurina. Avremo impiegato circa due ore dal rifugio Fondasavio.